Rimaniamo nel sud-est asiatico per il doppio appuntamento con il Racing Podcast per aver parlato alle 14 della MotoGP che ha corso in Thailandia, ci trasferiamo a Singapore per parlare della Formula 1, 17esima gara del campionato per un Verstappen che rimane saldamente leader della classifica, che fa una gara anonima di rimonta nelle parti basse della zona punti, anche e soprattutto per scelte scellerate del suo muretto in qualificazione, ma alla fine la Red Bull casca in piedi perché vince Sergio Perez, o meglio vince subiudice perché sappiamo che Perez è sotto investigazione per un safety car infringement, è un gran premio ancora una volta che torna dopo la pandemia, è un gran premio quello di Singapore che però ancora una volta è anonimo e non regala spunti di interesse per gran parte delle due ore della sua durata. Ovviamente si è arrivati anche una volta a termine delle due ore, perché come al solito è un circuito cittadino, non ci sono vie di fuga e basta un contatto o un errore di qualunque pilota per causare virtual o safety car vere e proprie. E considerato che la partenza come in Thailand è stata rimandata di un'ora per la grande quantità di pioggia, è evidente come questo circuito che già di base non garantisce sorpassi sia stato ancora più, come dire, arduo per i piloti ad affrontare per via dei vari sorpassi da fare. Perché ovviamente appena si usciva dalla territoria asciutta e andando sul bagnato le macchine perdevano grip e dunque guai a arrivare a qualche sorpasso. Tanto è vero che l'immagine più significativa è sicuramente quella della partenza, perché qui vediamo Leclerc che è in pole position dopo appunto una calificazione peraltro molto tirata, perché parliamo di 54 millesimi a separare i primi tre della classifica, ovvero Leclerc, Perez e Hamilton. Alla fine Perez farà uno scatto molto più importante di Leclerc e di fatto il messicano farà flag to flag per vincere la quarta vittoria della carriera, quantomeno in pista. L'altra immagine più significativa è sicuramente la successiva che vi mostro, ovvero questa, l'incidente tra Guadio Gio e Nicolò Sadifi, non per i due piloti coinvolti, ma perché, come spiegavo prima, questa pista non contiene vie di fuga essendo un cittadino. Peraltro, già in condizioni da bagnato o intermedie, come in questo caso, è difficile entrare dei sorpassi. Aggiungiamo il fatto che col bagnato o condizioni di pista intermedia si sbaglia ancora di più e quindi via con le virtual safety car e via con le safety car. Questi vari incidenti e tutti quelli che ci sono stati, per esempio quelli di Hamilton, quelli di Zunoda, soprattutto che ha causato una seconda safety car, l'incidente di K-Mag e via dicendo, hanno regalato come unico interesse appunto qualche safety car qui e lì, che però non ha causato altri sorpassi. Di conseguenza è un buongiorno per dire che, ancora una volta, il problema di Singapore dovrebbe essere tolto dal calendario perché è un circuito cittadino troppo lungo per essere un cittadino, con scarse vie di fuga e scarse posizioni di sorpasso. Ma, ovviamente, si tornerà a correre a Singapore per via della pila dei soldi perché a Singapore, ovviamente, ce n'è assoluto bisogno. Tutto questo per dire che Perez va alla fine a vincere in pista una gara clamorosamente anonima davanti alle clerche e davanti a Sainz. Perez, ricordiamo però, in questo momento in cui sto registrando, è sotto investigazione per aver infranto la regola che permetterebbe ai piloti di prendersi dello spazio in regime di safety car prima della ripartenza. Perez, secondo le immagini, avrebbe, come dire, oltrepassato il limite che impone il massimo di dieci vetture tra la safety car e lo stesso pilota messicano che, ovviamente, era in testa alla corsa di Singapore. Logicamente non si sa ancora quale sia la penalità, in telecronica a Sky hanno paventato diverse ipotesi, dal drive-thru addirittura, che vorrebbe dire 20 secondi all'incirca, ai dieci secondi tutti figli di precedenti causati uno a Fettele, uno a Giovinazzi qualche anno fa. Alla fine non si sa ancora quale sia la penalità in questo momento, in pista comunque Perez ha vinto una gara meritatamente davanti alle due Ferrari, dunque seconda vittoria in stagione per quanto riguarda il pilota messicano, che è terzo nel campionato del mondo, ha due punti da Charles Leclerc, che è secondo a 237. Leclerc, che, appunto, completa il podio in seconda posizione, l'errore più grave di Leclerc nella gara di oggi è stato sicuramente stracannare la partenza, non probabilmente il momento dello scatto, ma è evidente come abbia cannato l'accelerazione verso i 100 km all'ora, dove lì Perez ha vado addirittura a tre decimi, quindi lì si è decisa di fatto la gara, anche perché poi Singapore lo conosciamo come circuito. Terzo è Carlos Sainz, che fa comunque una gara molto interessante, che non poteva evidentemente aspirare a una posizione superiore, fatto sta che comunque è un buon podio per Carlos Sainz, che ci torna peraltro dopo Spa. Verstappen finisce settimo, ma comunque non è un grosso problema, perché sappiamo che Verstappen ha praticamente in tasca il titolo del mondo, mancano cinque gare alla fine e, matematica alla mano, potrebbe chiuderlo già in Giappone, che peraltro sarà il prossimo Gran Premio a Suzuka, si correrà settimana prossima. Verstappen finisce settimo, ma è tutto finito della qualificazione del sabato, praticamente la Red Bull sbaglia i calcoli per l'inserimento della benzina nella vettura dell'olandese, e di fatto Verstappen è costretto ad avvurtire l'ultimo giro, dove peraltro sarebbe stato turbo primo e in turbo pole position, alla fine a parte ottavo in qualche modo arriva in una settima posizione, porta a casa a qualche punto, il petto del vantaggio come vedete è comunque oltre i 100 punti, sono 104 per la precisione, di conseguenza al netto della binottata del moretto Red Bull il mondiale è praticamente chiuso e appunto il mondiale si potrebbe chiudere già con cinque gare di anticipo, quattro se consideriamo appunto quella del Giappone. Perez appunto al momento è sotto investigazione, dicevamo, anche se appunto in pista ha vinto una gara fantameritata, nel caso di 20 secondi di penalizzazione finirebbe comunque ai piedi del podio, in quarta posizione, se ci fosse a prima di 10 secondi invece sarebbe appunto sempre a podio, ma ovviamente in seconda posizione, visto che il distacco poi tra Leclerc e Carlos Sainz era di assoluto riguardo. In una gara che è quella anche di Singapore, che appunto come dicevamo prima è stata a eliminazione, in prima di tantissimi errori, appunto abbiamo visto ritirati Tsunoda, Guagnojo, Albon, Latifi, per probabilità che c'è anche le due Alpine, tutto questo dà spazio alle altre scuderie di farle dei punti molto interessanti, a partire da Lando Norris che finisce quarto in una gara che poteva in un certo punto, causa la safety car appunto di Tsunoda, riammettono addirittura la pilota al podio, ma alla fine la McLaren è nettamente inferiore alla Ferrari e di conseguenza è giusto il piazzamento in quarta posizione per il pilota inglese. Quinto è l'altra McLaren di Daniel Ricciardo, che sono appunto le ultime gare che lo vedranno protagonista in McLaren, comunque quarto e quinto posto per la mia McLaren è molto buono, soprattutto una volta con Alpine che fa un ricco zero punti. Sesto posizione addirittura per Lance Stroll, la vera sorpresa di questo GP del appunto città-stato di Singapore, è vero che è stata una gara eliminazione, è vero che Verstappen e Russell partivano uno indietro e l'altro ultimo, però comunque non ha fatto grandi errori il canadese, è stata per una volta una buona prestazione di Lance Stroll. Settimo Verstappen abbiamo detto, ottavo Sebastian Vettel con addirittura due a sto Martin a punti, qualcosa di clamoroso, nono è Lewis Hamilton che deve recriminare tantissimo per questa nonna posizione, sappiamo che Hamilton ha sbagliato in un tentativo di attaccare Sainz, è andato lungo una delle curve di Singapore, blocca le gomme davanti e va a muro danneggiando, evidentemente l'anno anteriore e da lì la gara sarà di fatto compromessa. Chiude la zona punti, Pierre Gasly che pare sia alle ultime gare con Alfa Tauri, i voci lo vogliono in Alpine l'anno prossimo insieme a Ocon per fare la coppia tutta francese su macchina francese, che sarebbe una coppia che francamente io garrisco in altremodo, ma comunque Alfa Tauri sta veramente scendendo sempre più verso il basso, con prestazioni molto più anonime, salviamo un punto diciamo così perché evidentemente molti altri piloti si sono ritirati, quindi per esempio le due Alpine, altrimenti Cassidy sarebbe protagonista in una gara anonima, un po' come alcune le abbiamo visto fare durante il corso dell'Alfa Tauri, e peccato perché Cassidy è sicuramente un buon pilota. Una gara che appunto come al solito ha dato spunti fuori pista, che non in pista, è la seconda gara consecutiva che la federazione stecca, diciamo così, perché è ovvio che l'investigazione non dovrebbe essere fatta dopo la gara, perché si falsa un minimo risultato in pista, perché è anche brutto vedere una cerimonia del podio fatta come si deve, con Perez vincitore in questo caso, nel 3 al secondo, con Sainz terzo, e poi magari scoprire, che ne so, quando questo video è già uscito alle 7 di sera, che in realtà ha vinto l'Eclerc con appunto Sainz secondo e Perez terzo, cioè per il mondiale in generale cambia poco, per la vittoria di tappa, mettiamola così, si toglie gloria e si toglie lustro alle gare fatte evidentemente da entrambi i contender, perché Perez ha dovuto spingere poi a un certo punto per mettere un gap di un certo livello, l'Eclerc ha dovuto spingere a sua volta rischiandoli inverosimile per ricucire quel gap, se poi magari si fosse saputo che l'investigazione ci fosse o non ci fosse stata, allora la dinamica della gara cambiava e allora potremmo dare questo dato come ufficiale. Invece questo risultato con la vittoria di Perez, la quarta in carriera, è solo subiudice e vedremo in una nota a parte evidentemente, già quando questo video sarà uscito, se appunto ci saranno delle novità in merito alla vittoria di tappa, la classifica appunto in realtà non cambia tanto, perché Verstappen ha praticamente vinto il suo secondo titolo mondiale consecutivo, dovremo aspettare la matematica certezza che potrebbe verificarsi già in Giappone, settimana prossima Gran Premio che si correrà, il leggendario circuito di Suzzu che si corre domenica prossima alle 7 di mattina, dunque anche qui nuovo Racing Podcast, la seconda settimana che sarà clamorosa per quanto riguarda il mio canale sportivo, ci saranno due video di baseball, l'unico collaborazione con Puma Z, il secondo da solo per presentare i playoff che partono venerdì 7 ottobre, e poi il 9 appunto primo Racing Podcast che potrebbe celebrare già Verstappen come B, campione del mondo uscente. Il saluto da parte di Matthew Thorgaard, ci vediamo a un prossimo video.